Musica Ci troviamo a Bologna, presso la sede dell'Arcivescovado, per la presentazione di Pesca Miracolosa, di Marco Quarantini, dove non solo potremo ammirare questo quadro e tutti i suoi dettagli, ma capire anche il forte messaggio che vuole trasmettere. Questo dipinto, frutto di una dedizione profonda e numerosi rifacimenti da parte del pittore, è un capolavoro che riflette l'impegno e la passione di Marco Quarantini. Lei ha visto il quadro in fase di realizzazione? Sì, ho visto il quadro sin dall'inizio, da quando era solo un'idea, e attraverso tutte le modifiche che ha fatto mio papà al quadro, sono riuscita a capire anche quello che può essere un processo di nascita di un quadro e quindi la realtà di quello che può essere anche un pensiero di un artista. Il figlio dell'artista. Lei è stato ritratto appunto in quest'opera. Quanta emozione in questa cosa? È stato molto emozionante in quanto ho visto lo sviluppo dell'opera, il rifacimento molte, molte volte del mio volto, quanto non ci piaceva da subito né a me né a mio padre, quindi è molto emozionante essere all'interno della sua opera e aver visto lo sviluppo di tutta l'opera durante il percorso artistico suo. L'opera ha attirato l'attenzione anche di esponenti del mondo istituzionale che hanno sottolineato come l'arte possa essere un mezzo potente per contrastare le mafie. Ma anche l'importanza dell'arte per quello che è una sua ricaduta sulla legalità. L'arte può avere influenza anche sulla legalità, anche una funzione come dire educativa. L'arte infatti è temuta ad esempio dalle mafie. Io provengo da una terra di mafia e sicuramente tutto ciò che cultura ed arte è visto come un nemico perché apre la mente e dunque allontana quella che è l'alternativa terribile delle mafie. Di grande rilievo è stata la presenza del cardinale Matteo Maria Zuppi, raffigurato nell'opera mentre salva i naufraghi, aggiungendo un ulteriore strato di significato e spiritualità al dipinto. Ci hanno detto che c'è anche lei nel quadro. Andiamo a vedere, non lo so, devo vederlo. In genere purtroppo è in effetto, diciamo così, perché capisci quello che sarai, ecco, diciamo così. Ma chi era quello? Quello faceva il vescovo una volta. Adesso ho appena passato qui in Curia, nel collettorio della Curia, ci sono tutti i ritratti dei miei predecessori. Ed è sempre anche sano, perché poi a un certo punto può essere che prima o poi ci finisca anch'io, però lo vedrò diversamente. E questo relativizza tante cose nella vita. Poi per il resto sono consapevole che io, forse anche un po', non sono io, non da solo, ma certamente a cominciare da me faccio sempre troppo poco rispetto a quello che va fatto. Momenti di grande emozione hanno accompagnato la scoperta dell'opera da parte di Quarantini davanti a un pubblico numeroso, a corso per ammirarla. La monumentale tela di 250x400 cm è stata svelata proprio nel giorno della solennità dei Santi Pietro e Paolo. Siamo davanti a una reinterpretazione di un episodio del Vangelo molto significativo, con una tecnica di pittura diversa dal solito. Verissimo. Io sono conosciuto come pittore per aver dipinto i pesci, pesci con un vetro sovrapposto che il professor Sgarbi ha definito Pulegoso. Qui sono uscito completamente dai canoni della mia pittura. Qui, su incarico del direttore della Caritas, Don Matteo Prosperini, due anni fa, ha avuto l'incarico di rappresentare una pesca miracolosa attuale. Come vedete nella parte destra del quadro è una rivisitazione del quadro di Raffaello che nel 1500 incaricato da Papa Leone X gli ha dato l'incarico per fare gli arazzi che sarebbero dovuti essere destinati alla Cappella Sistina. Io sono partito dalla postura di un Gesù benedicente, da un Simon Pietro implorante e da un Giovanni che raccoglie i pesci, i miei pesci colorati che sono tipici della mia pittura, per passare a una pesca miracolosa attuale. Pesca miracolosa che, come nella parte destra del quadro, ovviamente raccoglie una Bologna accogliente in cui su un'imbarcazione ci sono dei migranti che hanno sfidato il mare rischiando la vita per approdare nella nostra nazione in cui c'è al centro la figura dominante, è quella del Cardinale Zuppi che ovviamente ha in braccio un bambino appena pescato, ha uno sguardo estremamente coinvolgente quello del Cardinale, ha uno sguardo rassicurante che vuol dire io sono qua, sono qui per aiutarvi, ci sono. Alla sinistra del Cardinale un personaggio legato alla Caritas, rappresentativo di questa cattedrale, che era diventato un'icona di questa cattedrale perché è sempre legato e sempre aiutato dalla Caritas. Nella parte destra un giovane, mio figlio Enrico, che con molta fatica issa un disperato, poi un salvagente con una naufraga esangue e una mano che implora aiuto nella parte bassa del quadro. Per concludere, la parte alta del dipinto riporta a Bologna, città accogliente, la Basilica San Luca, l'icona della nostra città a ricordare che questa barca è popolata fondamentalmente da un senso dell'accoglienza in cui i personaggi sono, i personaggi della barca, sono tutti personaggi qui del territorio. È interessante perché conosciamo Marco anche per le sue opere che sono molto materiche, l'utilizzo dei materiali particolari come il vetro, come il metallo, il ferro, queste cornici che rinchiudono questi sogni, questi temi onirici. In questo caso invece il tema è molto crudo, il tema è purtroppo anche molto di attualità, perciò sembra che effettivamente il quadro non abbia in questo caso, vedo più cornici, anche perché effettivamente non è più un sogno che viene rinchiuso, è purtroppo la realtà cruda. Però è bello perché si vede sempre, in Quarantini, la speranza e oltretutto si parlava prima del concetto dell'accoglienza. I colori sono sempre molto vivi e questi pesci sono molto molto colorati, perciò anche se effettivamente la tematica qui rappresentata è molto triste, è molto cruda e fa riflettere, c'è sempre il colore che ci porta alla speranza, c'è sempre effettivamente una tonalità che ci dà e ci dà effettivamente l'opportunità di pensare a un mondo migliore, un po' anche quello di cui si parlava prima. Nel proseguo dell'evento, il Cardinale Zuppi ha voluto sottolineare l'importanza del concetto che salvare vite umane non dovrebbe essere oggetto di discussione, ma una spontanea manifestazione di umanità. Ci deve molto preoccupare, perché se si mette in discussione di salvare la vita, siamo essi male. Cioè diventa faticoso salvare un bambino. Poi, diciamo, purtroppo ci anticipiamo appunto, poi quando vediamo quelle cose tragiche come negli ultimi vent'anni, di episodi di morte e male che coinvolgono anche appunto i bambini in quel caso ci sono i bambini afghani, la cosa è propriamente dolorosa, perché è anche frutto di una di tanta ignavia, di tanta sceleratezza di coinvolgimenti che poi non risolvono per le produttive da parte della comunità internazionale. Importante è stata anche la puntualizzazione sull'uguaglianza, emersa nell'intervista a Simona Lembi della città metropolitana di Bologna. Ecco, accoglienza, uguaglianza sono parole davvero comunque forti, piene e piene di speranza, ma quanta strada c'è ancora da fare prima di poter veramente parlare di questo, di uguaglianza? Moltissima. Noi viviamo in un tempo storico in cui siamo abituati al fatto che uomini e donne quotidianamente vadano sulla luna, eppure il cammino dell'uguaglianza ha ancora moltissima strada da fare e questo significa che dobbiamo lavorare molto sulle alleanze, dobbiamo lavorare molto sulle istituzioni, dobbiamo lavorare su un senso comune perché è una battaglia difficile e quando si giocano battaglie e sfide impegnative serve l'aiuto di tutti. Nel dipinto è rappresentato anche un migrante che purtroppo non è più tra noi, ma il suo spirito e il suo ricordo persistono nel cuore di coloro che si dedicano all'accoglienza e alla solidarietà umana. Un dramma reale, con persone anche reali, anche l'episodio di Carlo. Sì, abbiamo voluto immortalare Carlo, il nostro amico, che non c'è più, da un anno, a causa di un incidente veramente banale, però ha perso la vita, lui che ha cercato per una vita una cittadinanza terrena, e nel momento in cui l'ha avuta il Signore l'ha chiamato alla cittadinanza del cielo e così abbiamo voluto fortemente che il suo volto rimanesse per sempre dove noi lavoriamo e lavoriamo per aiutare le persone. La pesca miracolosa di Quarantini non solo celebra la bellezza artistica, ma anche la capacità dell'arte di suscitare consapevolezza e riflessione sui temi cruciali della nostra società, promuovendo la comprensione e la compassione verso i più vulnerabili.